modo seguente che adesso vi vado ad illustrare. In particolare vi voglio dimostrare che l'evaporazione segue una legge di diffusione. Il punto di partenza per dimostrare che l'evaporazione segue un processo di diffusione è osservare che il potenziale chimico è una funzione della densità. Questo lo si può ottenere dalla espressione che noi abbiamo scritto per il potenziale chimico che è una legge di natura molto generale come abbiamo visto. Il potenziale chimico è uguale a un potenziale chimico di riferimento per la costante universale dei gas, per la temperatura in gradi Kelvin, e in precedenza l'ho scritto come logaritmo del rapporto tra le pressioni parziali del vapore e una pressione di riferimento sempre del vapore. Usando la legge dei gas ideali posso sostituire a questa legge una legge in cui al posto delle pressioni parziali compaiono le densità. E quindi questo assunto in qualche ho fatto in alto è dimostrato. Allora se il mio potenziale chimico è una funzione della densità, legge allora la legge di conservazione della massa, come mi cambia? Beh, ho chiederò su dt è uguale a meno il flusso j, al posto del flusso j sostituisco il flusso nell'espressione di Onsager, e questo che l'espressione di Onsager avevo è uguale, è che il flusso j è uguale a meno lc, quindi manca, mi sono dimenticato di un termine, mu per il gradiente di mu, e se sostituisco al flusso j di x, appunto il flusso di Onsager, quello che ottengo è un'equazione che ha questa forma. Derò su dt uguale la divergenza di un certo d, che è un coefficiente di diffusione per il gradiente di ρdx, dove il coefficiente di diffusione ha un'espressione che dipende dai coefficienti di Onsager e dalla forma della derivata del coefficiente del potenziale chimico rispetto alla densità. Quella che vedete scritta in secondo, eccolo, beh, qui ho espresso in forma diversa la legge di Onsager, che quella che vedete scritta nell'equazione, nella penultima equazione dall'alto, nella seconda dal basso, è esattamente la forma di un'equazione di diffusione, che in altre parti si chiama anche legge di Fick, perché fu Fick che per primo la dimostrò sperimentalmente. La differenza tra il lavoro di Fick e questo che io vi ho fatto qui è che io qui la legge di diffusione ve l'ho in qualche modo ricavata da principi primi della termodinamica. Quindi, ricapitolando, la nostra evaporazione avviene perché è una manifestazione dell'aumento di entropia a cui tendono tutti i sistemi naturali. In secundis, l'evaporazione segue la legge di Fick. Come in questo quadro entrano anche altre considerazioni. Esiste una legge che si chiama legge di Clausius Clapeyron. Questa legge di Clausius Clapeyron è quella che macroscopicamente ci dice che se io ho un liquido, a prescindere che io sappia che il liquido è composto da molecole o no, avrò un certo vapore in equilibrio con il nostro liquido e ad una certa pressione che si chiama tensione di vapore. In questo caso, questa tensione di vapore è ottenuta appunto dalla legge di Clausius Clapeyron. In effetti, voi avete già visto molte volte, immagino, un grafico di questo tipo. In particolare, questo è un grafico che ha in ascisse le temperature in gradi Kelvin e in ordinate la pressione a cui, per esempio, un liquido, l'acqua, in questo caso, è sottoposta. E l'assunto principale è che in certe condizioni di pressione e temperatura l'acqua si trova in forma liquida piuttosto che solida, piuttosto che di vapore. Per esempio, 101.3 kilopascal, cioè è un'atomosfera, quindi la linea che vedete tracciata a 101.3 kilopascal sono le condizioni in cui si trova l'acqua liquida mediamente sulla superficie della Terra. Tra le due temperature, che sono 273.15, che corrisponde agli 0 centigradi, al ghiacciamento dell'acqua, e i 100 gradi centigradi, cioè 373.15, l'acqua è prevalentemente in forma liquida. Quindi noi abbiamo in forma liquida. Ciò, nonostante, per ciascuna temperatura, per ciascuna temperatura, noi potremmo, ciascuna temperatura, ok, ciascuna temperatura è una linea verticale in questo grafico. Tracciate, per esempio, una linea verticale che sia compresa fra gli 0 gradi centigradi e i 100 gradi centigradi. Questa linea verticale va ad intercettare la linea rossa. Il punto di intercetta di questa linea verticale con la linea rossa identifica una pressione, e quella pressione è la pressione di equilibrio, la tensione di vapore. Cioè, questo grafico, il grafico delle fasi, non solo ci dice qual è lo stato prevalente di una certa sostanza, ad una certa temperatura e pressione, ma ci dice anche qual è la tensione di vapore che è in equilibrio con quella sostanza, a quella temperatura. che è questo che vi dico qui. Come sono ottenute le linee che dividono i vari stati? Beh, l'espressione che corrisponde all'energia chimica, che sono espressioni di questo tipo, hanno però coefficienti diversi in funzione, anzi quella più generale sarebbe questa espressione, hanno coefficienti diversi in funzione delle diversi stati chimici della nostra sostanza. Così, l'acqua è liquida, nell'intervallo che vedete segnato come liquide qui, perché il potenziale chimico dell'acqua liquida è inferiore al potenziale chimico dell'acqua solida, ed è inferiore al potenziale chimico dell'acqua sotto forma di vapore. Quindi la sua forma prevalente è quella che ha il mi... la fase prevalente di una certa sostanza è quella in cui il potenziale chimico è più basso rispetto agli altri. Questo ci rivela una nuova... ci rivela, diciamo, una nuova caratteristica del potenziale chimico. Noi abbiamo visto il potenziale chimico come un driver, un motore per muovere le particelle da una parte all'altra, perché abbiamo detto laddove ci sono differenze di potenziale chimico nello spazio, questo crea un gradiente di potenziale chimico che è un gradiente di energia e questo provoca un movimento delle sostanze, nel nostro caso dell'acqua. in questo caso rappresenta un... il potenziale chimico ha un'ulteriore lettura, che è quella in cui... che è quella di stabilire qual è lo stato fisco in cui si trova una certa sostanza, una certa molecola, se liquido o solido, in funzione delle variazioni che ci sono nel passare da una fase all'altra del potenziale chimico medesimo. E sono queste cose che abbiamo scritto qui. Per la legge... le equazioni che regolano quelle curve sono contenute nella cosiddetta legge di Clausius-Clapeiron, che hanno questa espressione, cioè la pressione parziale all'equilibrio, nel nostro caso tra acqua e vapore, è un certo fattore con zero che è uguale a 611 Pascal per lambda che è il calore latente di vaporizzazione, per l'esponenziale di lambda che è il calore latente di vaporizzazione diviso la costante dei gas per 1 diviso T con 0 che è una temperatura di riferimento che per esempio si sceglie a 0 gradi centigradi, cioè 273.15 gradi Kelvin, meno 1 su T che è la temperatura sempre in gradi Kelvin. Quindi l'equazione delle curve di separazione in questo grafico noi le conosciamo ed è questa che vedete disegnata qua. E questa equazione ci può tornare utile in seguito per fare i calcoli sull'evaporazione, sulla trasferiazione e noi ne riprenderemo l'equazione di Clausius-Clapeyron nel modo opportuno. Direi che per oggi le parti teoriche sono state abbastanza intense e quindi ci fermiamo qua. Dovrebbe essere già in linea, spero, concetta. Sì, però sono qua. Benissimo. Allora adesso facciamo un altro po' che poi mi dirà se sono stato chiaro, poco chiaro e così via, visto che lei mi può dire senza reticenze. E poi quindi terminiamo qua questa parte se non ci sono domande. Grazie. Grazie. Grazie.